Proseguo in questi giorni ad Erba, la raccolta di materiale scolastico di consumo per Macerata, un'iniziativa partita da Betty Acquaro in collaborazione con la protezione civile Erbalaghi. Betty Acquaro è con noi nei nostri studi e ringraziamo anche perché è un discorso che va inquadrato. Innanzitutto la raccolta di materiale scolastico già effettuata l'anno scorso, viene ripetuta quest'anno a favore delle popolazioni terremotate di Macerata. Sì, esattamente, per l'esattezza per l'istituto comprensivo Mestica, che è molto simile al nostro comprensivo Puecker, infatti sia scuola dell'infanzia che primaria che scuola media. Due di queste scuole sono state completamente distrutte, al momento sono ospiti in un collegio di Salesiani in altri locali del comune, hanno bisogno di tutto perché comunque le difficoltà ci sono e ci è sembrato giusto, anzi per l'esattezza è arrivato da loro la richiesta di aiutare le scuole, che vuol dire dare normalità a questi bambini, vuol dire che quando vanno a scuola hanno i colori, hanno la colla, hanno i quaderni e quindi possono vivere normalmente alcune ore, perché il sisma è stato sicuramente un trauma che non possono dimenticare. Un'iniziativa che è partita grazie alla collaborazione di un'amica di Macerata. Sì, una mia compagna di università, erano vent'anni circa che non ci sentivamo, pochi mesi prima mi ha chiesto l'amicizia su Facebook e ci siamo risentite. Stavamo scherzando con le solite battute che si fanno su qualche polemica che non mi ricordo e lei ha scritto, beh, ti aiutate noi terremotati. E mi sono sentita in dovere di rivolgere questo appello a tutti gli erbesi. Io faccio parte anche del consiglio d'istituto comprensivo e le mamme si sono rese immediatamente disponibili. Il nostro ex dirigente Calvi assolutamente disponibile, tant'è che a maggio abbiamo stipulato un patto d'amicizia con questa scuola dove oltre a raccogliere il materiale si cerca di creare anche una collaborazione fra le insegnanti di erba e quelli di macerata. La protezione civile è intervenuta immediatamente e questa cosa ci ha permesso di andare oltre che a erba negli otto comuni che fanno parte della circoscrizione della protezione civile. Ma non si è fermato lì perché in realtà l'anno scorso sono arrivati scatoloni di materiale dalle scuole di tutta la provincia, da Inverigo, da Giussano, al Bavilla e tutti veramente si sono dati da fare. Quest'anno noi speriamo di rifarlo, non sarà facile. L'anno scorso i telegiornali parlavano quotidianamente del terremoto. Ora non lo fanno più ed è ancora più importante per questo motivo far vedere ai nostri amici che invece per noi esistono. Sappiamo che il problema non è stato cancellato, anzi forse è peggio perché ci si sente anche dimenticati, gli erbesi non si sono dimenticati di loro. L'anno scorso un gran quantitativo di materiale è stato raccolto, si pensa, si spera quantomeno di ripetere la stessa raccolta quest'anno? Sarà difficile perché l'anno scorso abbiamo raccolto 40.000 euro di materiale, tre computer, tre videoproiettori. Quest'anno speriamo di fare lo stesso. In realtà abbiamo cominciato anche meglio dell'anno scorso perché grazie a Cuore in Erba, che è un'associazione meravigliosa, siamo partiti con un defibrillatore che ci è stato donato domenica a Crevenna durante un evento col cuore in mano. Quest'anno altre persone mi hanno contattato tramite Messenger chiedendo se ci sono esigenze particolari. Io dico sì, mi chiedono tempere, colori e colle. Logicamente un'altra persona ieri sera mi ha mandato proprio un messaggio su Messenger, donnerà un PC portatile. Insomma vediamo di fare tutto quello che si può. La possibilità di collaborare e di aiutare c'è ancora il 3 febbraio prossimo, sabato 3 febbraio dalle 9 alle 12.30. La scuola media Puaker di Erba, che è un po' il centro di raccolta, ci sarà appunto la possibilità di portare ancora i generi di prima necessità e materiali scolastici. Sì, assolutamente. Ogni scuola, comunque ogni plesso ha uno scatolone all'interno, i bambini possono portarli anche lì. Alla scuola media possono venire tutti, non solamente i bambini o gli studenti, ma tutti gli erbesi che vogliono passare. E in più, proprio poco, mezz'ora fa, Selene ci ha dato la possibilità di fare una colletta, noi la chiamiamo didattica perché non sappiamo come chiamarla, tipo colletta alimentare, sabato 10 dalle 9 alle 19, la protezione civile, le mamme e le insegnanti che vogliono partecipare possono venire al Selene e lì crediamo che, almeno l'anno scorso, ci aveva portato veramente tantissimo materiale. Poi sono certa che anche i signori del Selene sono anche loro molto generosi e quindi di sicuro riusciremo a portare anche quest'anno tanta roba macerata. Quindi l'appello agli erbesi e anche agli abitanti dei comuni limitrofi è quello di recarsi sabato 3 febbraio alla scuola media Puecher di Erba per consegnare direttamente nelle mani di Betty e dei tanti collaboratori materiale scolastico che andrà appunto a disposizione della scuola di macerata. Abbiamo parlato di questa iniziativa ma Betty è impegnata anche a Crevenna che è la sua frazione dove opera regolarmente, già a questo fine settimana, ci sarà un appuntamento importante. Sì, assolutamente. Noi venerdì faremo la giubiana, l'abbiamo rimandata per la pioggia, la facciamo al venerdì, sappiamo che non è il giorno giusto perché andrebbe fatta di giovedì ma la nostra giubiana è un po' particolare perché c'è una grande collaborazione con la scuola primaria, i bambini hanno preparato delle filastrocche, delle canzoni e così al venerdì sera si può anche fare tardi. Faremo un corteo dalla scuola alle 18.40 fino all'oratorio, si mangerà tutti insieme il risotto con l'Uganica, poi c'è il corteo armati di pentole e mestoli. Per Crevenna si tornerà per il processo e il rogo che è accompagnato dalla musica dei bei. Non finisce lì perché poi siamo soliti ritrovarci all'interno dell'oratorio a cantare tutti insieme con una fetta di torta. Invito tutti a partecipare perché è bello, stare insieme è una cosa bellissima. Una frazione viva tra l'altro quella di Crevenna d'Erba, un'anticipazione di quella che sarà la serata di venerdì, c'è stata domenica non soltanto con la consegna del defibrillatore da parte di Corinerba a Betti e ai suoi collaboratori ma anche con la presenza di alcuni stand enogastronomici nella villa comunale, poi la cerimonia di chiusura del presepe vivente che ha richiamato ad Erba come al solito decine di migliaia di persone. E allora grazie a Betti Acquaro, speriamo che gli erbesi rispondano generosi a questo ennesimo appello per la raccolta di materiale scolastico per macerate. Grazie a voi, io sono certa che gli erbesi risponderanno perché hanno dimostrato e dimostrano in ogni occasione che hanno un cuore enorme, quindi grazie a tutti e contattatemi anche in privato se volete fare delle donazioni magari diverse per dirvi se in realtà ci servono oppure magari possiamo dirigerle a qualche altra associazione. Grazie ancora. Grazie. Grazie.